A Berlante la condanna di un italiano, di qualsiasi italiano, ancora più grave quella del leader del maggior partito italiano, il popolo della libertà, sto parlando di Sipio Berlusconi, il quale viene condannato in terzo grado per un'accusa che non ha fondamento giuridico, cioè chi ha firmato i bilanci di Mediaset con Falunieri, quindi chi secondo i giudici avrebbe fatto materialmente il falso e l'evasione alla truffa è innocente, chi invece a Palazzo Chigi si interessa di politica italiana, il capo di un partito è il socio occulto, cioè chi firma, chi uccide, chi è assassino in teoria è innocente, chi preme il grilletto, chi invece secondo la magistratura gli dice ma ammazzare quello là è innocente, niente di tutto questo è un esempio che ho voluto fare che rende molto, quindi questo dimostra il fallimento della giustizia italiana, la necessità della responsabilità civile dei giudici, la necessità di togliere l'obbligatorietà dell'azione penale, unico esempio al mondo, è rimasto solo in Italia questa aberrazione, la divisione delle carriere, un CSM laico completamente e che ovviamente apprenda i provvedimenti seri, compreso l'allontanamento dei giudici incapaci, che sono abbastanza tanti, che lavorano poco, o che fanno politica, che sono politicizzati, che vogliono sovvertire, non con i carri armati, con l'uso politico della giustizia, la nostra Costituzione, le dittature dei giudici, già dal tempo delle acquisizioni sono le peggiori di tutte, quelli con i carri armati ci si può andare incontro, far saltare, quelle che invece in nome del popolo italiano che mettono sentenze contro il popolo italiano, è ovvio che sono di difficile contrasto. I comunisti, i comunisti sono una brutta razza, la peggiore, quella che credo che il Signore abbia fatto il mondo, abbia creato il mare, l'acqua, la terra, l'aria, l'uomo e poi gli sia venuto tutto bene, e abbia voluto mettere il diavolo, il diavolo sono i comunisti, lo stanno dimostrando, che si vogliono sbarazzare non con la democrazia del loro nemico, un avversario politico considerano un nemico e sono in grado di fare tutto, sono pronti a tagliarsi le palle per fare dispetto alla propria moglie, non sapendo che poi ci siamo noi, che ci sostituiamo a loro, lo facciamo già comunemente, ma nei loro confronti lo stiamo facendo ancora meglio perché effettivamente hanno il paraocchi, sono deformati mentalmente, sono psicopatici, hanno talmente l'occhio che non gliene frega niente e dell'Italia, degli italiani, come un tempo, se vi ricordate i miei tempi, quando facevo l'università, ho fatto l'università a Pisa, questi comunisti che hanno i cattivi maestri, sono quelli che hanno creato lotta continua, il potere operaio, le brigate rosse che tanto male hanno fatto all'Italia e gli italiani, ebbene, questi erano quelli che dicevano che il paradiso terrestre era in Unione Sovietica, quando c'era Italia e Russia di calcio tifavano per la Russia, ebbene, sono i loro figli, i loro figli di questi che hanno avuto il genoma modificato, il DNA modificato, che adesso vogliono fare fuori tutti coloro che li ritengono di ostacolo alla presa del potere, perché loro vogliono prendere il potere come hanno fatto in Toscana, Emilia, Liguria, Umbria, Marche, in cui si identifica il potere politico col potere affaristico, il motore di Paschi, Siena, Docet, dove la mafia, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita e la Cacamora gli fanno un baffo alle associazioni politica criminale rossa dei russi toscani, migliani, umbri, marchegiani o Liguri. Quindi la questione perlusconiana è una questione che deve far riflettere, perché già vent'anni fa il popolo ha sbagliato a farsi eliminare, a eliminare uno degli statisti più importanti al mondo, Bettino Craxi, e adesso si deve ribellare, perché la guerra di 30 anni, la guerra dei 20 anni, non può continuare, anche in Germania i principi protestanti e i cristiani avevano trovato un accordo, altrimenti la Germania in quegli anni sarebbe finita, adesso bisogna trovarla, la pacificazione non può avvenire con questi comunisti, c'è bisogno, credo, quanto prima, non dico ottobre, ma quanto prima, in primavera del prossimo anno o la primavera del prossimo anno ancora del 2015, ritornare alle elezioni e che il popolo ci dia una quantità di seggi alla Camera e al Senato perché dobbiamo fare nelle riforme, se l'errore di Berlusconi si può parlare che non ha fatto la riforma della giustizia, andando a firmare i referendum radicali, la riforma la potremmo fare anche per via una referentaria, quindi facciamo l'uno e poi facciamo anche l'altro. Certo è che sono proprio cattivi, sono proprio dei diavoli, sono una minaccia per la democrazia, la Costituzione la sanno leggere solo dal loro punto di vista nel loro Vangelo, che è un Vangelo di odio, di rancori, di risentimenti, e non invece di sviluppo e di democrazia.